Gianluca Grassadogna per ora non ha intenzione di stravolgere l'assetto tattico del Pescara. Il lavoro del neotecnico Biancazzurro è molto improntato sulla testa dei calciatori e sull'atteggiamento. L'obiettivo è scuotere il gruppo da quella abulia che ha caratterizzato la maggior parte delle partite fin qui giocate, molte sotto la gestione di Oddo e quasi tutte le ultime della gestione Breda. Perché al di là di alcuni limiti tecnici e al di là di un cattivo assemblaggio dell'organico, quello che più risalta agli occhi è la mancanza della voglia di lottare che è ancora più evidente nelle gare casalinghe. Chiaro che senza determinazione, orgoglio o addirittura ferocia non si va da nessuna parte e il verdetto di una retrocessione da evitare assolutamente sarebbe accompagnato da una lenta agonia. Grassadogna può contare sul supporto di due bandiere, il sindaco Marco Sansovini e il toro Ugo Campagnaro, promossi come collaboratori tecnici, metteranno a disposizione la loro conoscenza, la loro competenza e soprattutto il loro carisma, quello di chi ha sempre onorato la maglia biancazzurra. Interessante come proprio nella seduta di ieri, Campagnaro abbia preso con sé tutti i difensori, li ha portati su un altro campo del poggio per diversi minuti e ha lavorato con loro sui movimenti di reparto e sulle uscite palla, fronteggiando il pressing avversario. Nel 3-5-2, qui sta pensando Grassadogna, due potrebbero essere le novità, il ritorno di Galano in attacco e l'impiego di Macin da Mezzala. Il Robben delle Puglie manca dalla gara di Salerno, nella quale si è infortunato, tornato tra i convocati contro Empoli e Venezia, non è mai entrato allo stirpe di Frosinone, se la settimana darà indicazioni confortanti, Galano potrà giocare al fianco di uno tra Setter e Odgard. Macin, che potenzialmente può ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo, sarà la mezzala offensiva, dovendosi sdoppiare in un ruolo di supporto in copertura, ma dando anche qualità negli ultimi 30 metri, cosa fattibile per il suo talento, ma sgomberando la mente da polemiche e comportamenti discutibili degli ultimi tempi. Val di Fiori e una mezzala di copertura e di equilibrio, quale Busellato, andranno a completare il reparto. Con Balzano squalificato e Sorensen in chiaro ritardo di condizione, Gut si candida per il ruolo di terzo-destro di difesa. Migliorano le condizioni di Drudi, che potrebbe anche entrare in competizione per strappare una maglia a uno tra Bocchetti e Scognamiglio.